guardate chi c'è qui chi è questo bel cucciolino e il piccolo joker del canile di la terza che abbiamo portato fuori e lo abbiamo portato a casa di roberta in stallo perché doveva partire la sorellina harley queen ricordate harley queen erano tutti e due terrorizzati in particolare lei poi harley queen è partita è andata a verbania in adozione sabato scorso potevamo lasciare solo joker no in canile riportarlo non se ne parla proprio e abbiamo chiesto stallo ad un'amica aginosa che si è occupata fino a poco tempo fa di sop vi ricordate infatti questa è la location delle foto di sop quando abbiamo fatto il suo video e adesso speriamo che il posto gli porti fortuna e anche la famiglia che devo dire ci porta molta fortuna ogni volta che ci tiene questi cagnolini oltre a educarli benissimo con l'aiuto di gioia questa cagnolina splendida porta tanta fortuna perché troviamo bellissime famiglie quindi questo passaggio è un passaggio fortunato ma joker si sente in questo momento il cucciolo più fortunato del mondo perché dopo aver conosciuto le privazioni il freddo la solitudine l'umidità tutto tutto approvato questo povero cucciolo carcere duro adesso che sta in una casa al calduccio con una cagnolina con la famiglia ha pure questo spazio verde per giocare perché in canile c'è solo cemento ed è felice però è come vi dico sempre per gli stalli non dovete dire ah bene sta bene così il cane non lo richiedo prendiamo qualcun altro no perché tutti i cani dovrebbero avere le possibilità che ha joker in questo momento però dovete lasciare poi il posto libero quindi adottate i cagnolini che sono adesso in stallo così poi ne mandiamo altri e li tiriamo dal canile li tiriamo via dal canile mi hanno detto che quando joker esce al guinzaglio salta come un leprotto perché tutto contento quanto è carino ecco è proprio carino deve ancora imparare a fare i bisogni ci vuole qualche giorno soppa imparato non subito e anche lui imparerà anche lui perché adesso ha paura ricordate che lui e la sorella nascono come cuccioli paurosi però vedete come già si è rasserenato tantissimo sono solo due giorni prima è stato a casa di roberta però roberta non poteva dedicare tanto tempo perché ne ha tanti e quindi lo teneva sì in casa però prevalentemente in in casa invece con questa famiglia lui ha la possibilità di fare già esperienze con il mondo esterno imparare a passeggiare al guinzaglio che è molto importante e voi vi scoraggiate quando i cani non vanno a guinzaglio invece non dovreste perché prima o poi imparano devono solo essere portati più volte che c'è joker la smetti di fare il leprotto quanto è carino questo cucciolo quanto è dolce con l'erba in faccia adottatelo è bellissimo non cresce tanto noi pensiamo sui 15 kg arriverà beh buona fortuna piccolino buona fortuna già sei stato fortunato finora però questa fortuna deve continuare ciao amore quanto è bello ciao grazie a tutti